Buongiorno a tutti, una buona notizia. Il primo di ottobre abbiamo concluso la raccolta fondi per far sopravvivere Pandora TV. Diciamo che il risultato è, secondo il mio giudizio, straordinario, superiore addirittura alle mie attese. La prima tappa, come abbiamo comunicato, è stata raggiunta con il risultato massimo, 50.000 Euro all'inizio dell'estate. La seconda tappa si è conclusa il primo di ottobre all'incirca e noi abbiamo raggiunto il 78% dell'obiettivo. Cioè complessivamente abbiamo raccolto 78.000 Euro abbondanti e questo ci consente di dire che non si spegne. Pandora TV continua a esistere. Abbiamo guadagnato una manciata di mesi, non l'eternità, una manciata di mesi, ma potremmo andare avanti. Quindi questo è un risultato di enorme importanza per me, per noi, per la squadra di Pandora e per tutti voi. Quasi 2.000 persone, chi moltissimo, chi molto, chi meno, ciascuno secondo le sue possibilità e la sua intelligenza ci hanno dato dei soldi per sopravvivere. Quindi non restiamo al buio, andiamo avanti. E questo è un risultato che ci dice però che la nostra scommessa continua a funzionare, che il pubblico vuole che noi viviamo. Ovvio che saremmo costretti a fare economia. Vi informo che ho dovuto liquidare la società responsabilità limitata che gestiva questa situazione, perché contributi, trattamenti di fide rapporto, tasse, sono stati micidiali, un vero e proprio massacro. E dobbiamo continuare a lavorare in regime di quasi totale volontariato, quasi totale, perché alcune spese sono inevitabili e non possiamo rinunciarvi. Siamo costretti forse a ridurre qualche cosa, ma sostanzialmente andiamo avanti e ci estenderemo. Abbiamo dei progetti, li vedrete molto presto. Cioè, ripeto ancora una volta, non ci spegniamo. Vi chiediamo solo di continuare a mandarci, secondo le vostre possibilità, una parte dei vostri risparmi. Più ne arrivano, più saranno i mesi in cui noi continueremo a lavorare. Più potremo migliorarci. Ma quello che deve essere chiaro a tutti è che noi adesso siamo più che mai un'isola in un mare di menzogne e di inganni. Tutti i giornali, tutte le televisioni, salvo il fatto quotidiano, va detto, sono coalizzati contro questo governo in un modo che non ha precedenti, non c'è mai stata una tale unanimità e ostilità. Ed è l'ostilità degli sconfitti, dell'elezione del 4 marzo, che sono poi quelli che hanno, diciamo così, sgovernato l'Italia, venduto tutto, privatizzato tutto, portato l'Italia in una situazione in cui ha le mani legate, come stiamo vedendo in questo momento, e non può, seguendo le regole europee che ci sono state imposte, non può neppure liberarsi da queste catene. Quindi siamo un'isola a difesa di una rivolta, che è quella del popolo italiano espressa il 4 di marzo. E quindi il nostro compito è quello di mantenere la barra dritta, che è quella della verità, dell'obiettività, della critica, quando occorre, senza mai dimenticare per un istante che questo governo non è quello dei bugiardi e dei truffatori, che questo governo ha cacciato via tutti coloro che hanno rovinato l'Italia, che ci hanno sottoposto all'Italia dei mercati, che hanno venduto la nostra sovranità nazionale, cioè offeso la nostra Costituzione. Questo non è il mio governo, il nostro governo. Il suo programma non coincide con il mio programma o con le idee che noi abbiamo. E tuttavia noi non possiamo dimenticare che questo governo in questo momento rappresenta la maggioranza degli italiani, il loro scontento, la loro rivolta. politica non è ancora la via per uscire, ma è una via che si viene tentando. E quindi noi dobbiamo sapere che non possiamo essere dalla parte di coloro che hanno rovinato l'Italia. E quindi la nostra obiettività è questa. E quindi far vivere Pandora significa consentire a questa verità di farsi strada nel mare delle menzogne che sta invadendo le teste di tutti gli italiani. Io penso personalmente che non si possa fare la frittata se non si rompe qualche uova. È una citazione leninista. E quindi qualche spallata potente, come quelle che sono state date in qualche misura e che si stanno dando, sono necessarie. Non ci sarà cambiamento senza lotta. E non è solo la lotta dei ministri del governo, ci mancherebbe altro. Alcuni dei quali non sanno forse come si fa la lotta, ma il problema è questo, ci vuole la lotta popolare. E la lotta popolare non può esserci se non c'è un'informazione adeguata. Quindi la necessità di far vivere Pandora è la necessità di far vivere una isola di informazione corretta, seria, severa, critica, ma corretta, non faziosa. E soprattutto non corriva, come si suol dire, con coloro che sono stati i nemici del popolo in tutti questi decenni, dai quali bisogna liberarsi. Per questo vi ringrazio per quello che avete fatto e insisto. Far vivere quest'isola della verità significa far vivere Pandora TV. E se riusciamo a fare in questo momento critico, difficile del paese, un altro giro intorno al mondo, tutti insieme, con una informazione civile, adeguata e seria, questo sarà un vantaggio per tutti. Per voi, per Pandora TV e per l'Italia.